Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Siamo arrivati al finale della prima stagione di My Home, My Destiny. La puntata del 2 settembre. Infatti, sancirà il giro di boa tra la prima e la seconda attesissima stagione. Vediamo intanto come si conclude la prima. Dopo aver assistito all'incontro tra Emine e Farouk, Zeynep è rimasta paralizzata dalla sorpresa e dallo shock. Kibrit, furiosa per quanto ha visto, l'incoraggia ad agire, ma per Zeynep la priorità assoluta è evitare che Mehdi venga a conoscenza di quanto accaduto, per non aggiungere ulteriori complicazioni a una situazione già difficile. In questo momento, Zeynep è anche incerta se Sultan sia a conoscenza della situazione, e questo la preoccupa non poco. La sua principale preoccupazione è proteggere la stabilità delle relazioni e la tranquillità della sua famiglia. La cosa che colpisce Zeynep è la consapevolezza che Emine, la sua amica più cara e quasi una sorella, le ha mentito e tradito la fiducia. Questo tradimento le pesa profondamente, e Zeynep si trova ad affrontare un mix di emozioni, dall'indignazione alla delusione. Nel frattempo, Benal è sempre più preoccupata che il suo ex marito Serat possa trovarla. Dopo averlo avvistato casualmente sotto la sua finestra, cerca persino di passare inosservata mentre cammina per strada, temendo che Serat possa essere sempre alle sue calcagna. La paura e l'ansia legate alla sua situazione la costringono a mantenere un profilo basso, cercando disperatamente di evitare un possibile confronto con lui. I timori di Benal si trasformano in realtà quando Serat, all'improvviso, la afferra con forza e la costringe a seguirlo contro la sua volontà. Benal si trova intrappolata tra le mani minacciose di Serat, che la trascina per la strada senza che nessun passante intervenga. La sua situazione sembra disperata, ma all'improvviso, un colpo alla testa ferma Serat. Era Mujgan, preoccupata per l'incolumità di Benal, che si trovava casualmente in zona e ha deciso di difendere l'amica coraggiosamente. Utilizzando un oggetto contundente, ha colpito l'ex marito con determinazione, mettendo fine al suo tentativo di violenza. Sconvolta per il suo coraggioso gesto, Mujgan afferra immediatamente Benal e insieme fuggono dal luogo dell'aggressione. La tensione è palpabile mentre cercano un rifugio sicuro per mettere una distanza tra loro e il pericoloso Serat. Nel frattempo, quella sera stessa, Mehdi e il resto della famiglia finalmente tornano a casa dopo una giornata intensa. Mentre Sultan ringrazia Zeynep per l'aiuto che ha offerto a Emine, tradisce se stessa involontariamente, non riuscendo più a nascondere la vera ragione dell'assenza di Emine. Il suo sguardo o la sua espressione potrebbero suggerire qualcosa che va oltre le parole, svelando un mistero che coinvolge la scomparsa di Emine. Zeynep esprime il suo desiderio di rivedere presto Emine, mentre Sultan, incapace di mantenere ulteriormente la menzogna, si rende conto che Zeynep è a conoscenza del segreto riguardante sua figlia. In quel momento, entrambe smettono di fingere l'una con l'altra, rivelando finalmente le vere emozioni e preoccupazioni. Nel frattempo, Nu non ha più bisogno di nascondere la verità, ed è evidente nel suo volto che è dispiaciuto che Emine sia fuggita con Faruk, l'uomo di cui aveva cercato di mettere in guardia. La tensione nell'aria è palpabile mentre le relazioni si rivelano più complesse di quanto sembrassero. Maddy, presente in quel momento, assiste a tutto questo e finalmente scopre un ulteriore segreto. La sua espressione riflette un mix di rabbia e preoccupazione mentre desidera immediatamente ricarsi a casa di Faruk per riportare Emine a casa e affrontare la situazione. La verità sta emergendo, mettendo alla prova le relazioni tra i personaggi e gettando nuova luce sulle complicazioni che si celano dietro le apparenze. Tuttavia, Zeynep interviene immediatamente, fermando Maddy con fermezza. Sottolinea che è stata una scelta di Emine quella di fuggire con Faruk e che non desiderano ne accettano il loro aiuto né il loro giudizio in questa situazione delicata. Zeynep vuole che Emine prenda le sue decisioni autonomamente, senza interferenze esterne. Nel frattempo, Faruk fa ritorno a casa con una Emine ancora scossa per essere stata scoperta da Zeynep. Faruk cerca di rassicurarla, promettendo di affrontare tutto insieme e di superare qualsiasi difficoltà. Mentre si abbracciano, Faruk nota con sgomento che suo padre è dentro casa, osservando la scena con uno sguardo torbo. La presenza del padre di Faruk aggiunge ulteriori complicazioni a una situazione già tesa, mettendo in dubbio il futuro della relazione tra Faruk e Emine. Anche Zeynep e Mehdi rientrano a casa e fanno una scoperta inaspettata. Trovano Benal, completamente esausta, distesa sul loro letto e profondamente addormentata. La sorpresa è tale da lasciarli senza parole e con l'espressione sbigottita dipinta sul volto. Non riescono a capire come sia finita lì e cosa possa essere successo. Nel frattempo, Sultan, accompagnata da No, fa ritorno a casa e i due cominciano a parlare di Emine. Sultan nutriva la speranza di vedere i due ragazzi insieme come una coppia, consapevole che la felicità di sua figlia sarebbe stata garantita con Mehdi. La conversazione tra No e Sultan è carica di sentimenti e rimpianti, poiché si rendono conto che il destino ha preso strade diverse da quelle che avevano sperato per Emine. Tuttavia, Sultan è ferma nella sua convinzione che Faruk non sia in grado di offrire la felicità a Emine. Nonostante il suo cuore sia pieno di tristezza, No cerca di rassicurarla, promettendo che sarà sempre al suo fianco e che insieme sembravano una grande famiglia. No, in un momento di sincerità, decide di condividere il suo segreto più profondo. È innamorato di Emine da sempre, ma sa bene che il suo sogno è sempre stato quello di lasciare quel quartiere. Sultan, con una saggezza materna, incoraggia Nu a non vergognarsi delle scelte di Emine e a sperare che sia felice con Faruk, perché alla fine la felicità di sua figlia è ciò che conta di più. Le parole di Sultan mostrano una comprensione profonda e una vera accettazione delle scelte e dei desideri di Emine, anche se non seguono necessariamente il percorso che avevano immaginato per lei. Ancora nella residenza di Faruk, il giovane discute in modo frenetico con suo padre. Quest'ultimo lo esorta ad assumersi finalmente le proprie responsabilità e a diventare motivo di orgoglio per una volta nella sua vita. La conversazione è avvolta da un velo di segretezza poiché Emine è completamente all'oscuro di ciò che si sta discutendo. Molto probabilmente. Il tema principale riguarda il matrimonio che è stato organizzato per Faruk, una notizia di cui Emine non ha ancora avuto sentore. La tensione nell'aria cresce mentre Faruk è alle prese con le aspettative e le pressioni di suo padre. che sembrano celare un destino preordinato che potrebbe mettere in discussione il futuro della sua relazione con Emine. Una volta che suo padre se ne va, Faruk cerca di mettere da parte la questione e prosegue la serata come se nulla fosse accaduto. Tuttavia, Emine avverte immediatamente che qualcosa non è al suo posto. Le sorge una domanda inevitabile, perché suo padre non ha nemmeno considerato la sua opinione. Questo la fa sentire come se nessuno credesse davvero nella loro relazione. Per Faruk, invece, la visione è diversa. Per lui, quello che pensano gli altri non ha alcuna importanza. Lui ama sinceramente Emine e è deciso a stare con lei, consapevole che nient'altro conta veramente. La sua determinazione nel sostenere la loro relazione trasmette un messaggio di amore e di fiducia nell'amore che condividono, indipendentemente dalle opinioni o dalle pressioni esterne. Nella dimora dei Caraca, Mujgan spiega a Mehdi, Zeynep e Sakine il motivo per cui ha portato Benal a casa. Con voce ferma, racconta come Serhat rappresenti ancora una minaccia concreta e, se è pericoloso per Benal, lo è altrettanto per il figlio di Mehdi. Mujgan è determinata a non permettere che accada nulla di male a entrambi e è pronta a fare tutto il possibile per proteggerli. La sua preoccupazione per la sicurezza della famiglia è palpabile e tutti comprendono l'urgenza di affrontare questa minaccia incombente. Per Mujgan, il figlio di Benal è legato al loro sangue e se per proteggerlo Benal deve rimanere con loro, allora così sarà. La determinazione di Mujgan nel proteggere la famiglia è evidente e la sua lealtà è incrollabile. Zeynep, sebbene esausta dalla situazione, mantiene un'apparente calma e suggerisce che preparino tutto per la notte e si preparino a dormire. Sakine, comprendendo la difficoltà della figlia, si offre gentilmente di accompagnare Mujgan, lasciando Zeynep e Mehdi da soli. I due si trovano ora a confrontarsi. Zeynep esprime chiaramente il suo senso di dignità e orgoglio personale, affermando che non dormirà nello stesso luogo in cui ha dormito Benal. La sua risolutezza nella difesa della propria integrità è evidente e questo momento rappresenta una svolta nelle dinamiche della casa, poiché si iniziano a delineare chiaramente le priorità e i limiti di ciascun personaggio. Zeynep rimarrà al fianco di Mehdi, affrontando coraggiosamente questa difficile situazione, ma non permetterà che la sua dignità venga calpestata così facilmente. Mehdi comprende appieno i sentimenti di Zeynep e si rammarica profondamente per ciò che sta accadendo. Zeynep, con grande comprensione, non in colpa ha fatto Mehdi per la situazione attuale. Anzi, sottolinea che solo insieme, come coppia unita, saranno in grado di affrontare qualsiasi sfida. Il giorno successivo, Zeynep si dedica alla preparazione del suo discorso di laurea, che dovrà tenere a breve. Nonostante le difficoltà che sta affrontando, dimostra una notevole determinazione nel perseguire i propri obiettivi e nel continuare a progredire nella sua vita accademica. Al telefono con Nermin, Zeynep riceve la notizia che suo padre Ekrem non potrà essere presente alla sua laurea a causa di impegni di lavoro. Dopo la chiamata con Nermin, però, Zeynep si rende conto che sua madre non riesce a contattare Ekrem da alcuni giorni. Preoccupata, Zeynep tenta di chiamare suo padre al telefono più volte, ma ogni chiamata finisce sulla segreteria telefonica. Disperata, lascia diversi messaggi vocali nella speranza che suo padre risponda o almeno ascolti le sue parole. Nel frattempo, vediamo Ekrem mentre si prepara a partire per un lungo viaggio. La sua partenza improvvisa aggiunge ulteriore mistero alla situazione e aumenta le preoccupazioni di Zeynep e Nermin riguardo alla scomparsa di Ekrem. Lui, la sua amante e la loro figlia si stanno preparando per partire. Tuttavia, prima di partire, Ekrem decide di lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica di Nermin. Appena Nermin ascolta il messaggio, rimane sconvolta dalle parole di Ekrem. Lui le dice che probabilmente verrà a conoscenza di cose che non potrà credere, ma che l'ha amata sinceramente e che tutto ciò che ha fatto, l'ha fatto per il bene della loro figlia. Proprio come Nermin sta facendo per Zeynep. Questo messaggio getta una nuova luce sulla complessità delle relazioni e delle decisioni che hanno coinvolto Ekrem, Nermin e la loro famiglia, aggiungendo un ulteriore strato di mistero alla situazione. Infine, nel suo messaggio, Ekrem si scusa e il suo discorso si interrompe, lasciando Nermin incredula e confusa per le parole enigmatiche che ha appena ascoltato. Mentre Nermin cerca di elaborare il significato di quel messaggio, viene raggiunta da Mr. Ishan, il quale porta notizie cruciali riguardo a suo marito Ekrem e alla loro azienda. Mr. Ishan, accompagnato da diverse persone, spiega a Nermin che Ekrem, in complicità con l'avvocato Meltem, ha contratto numerosi debiti aziendali, mettendo in atto una frode che ha portato l'azienda alla bancarotta. Inoltre, rivela a Nermin che Ekrem e Meltem hanno anche una figlia. Mr. Ishan sottolinea l'importanza di presentare immediatamente una denuncia nei confronti di Ekrem, poiché c'è il rischio che possa abbandonare il paese. Nei prossimi giorni, le loro proprietà verranno valutate e potrebbero essere confiscate. Nermin, incredula e sconvolta, cede all'angoscia e alla disperazione, non riuscendo più a prestare attenzione alle terribili notizie che le stanno venendo comunicate. La sua vita, in quel momento, sembra crollare completamente sotto il peso delle rivelazioni shock che coinvolgono suo marito, la sua famiglia e la loro situazione finanziaria. Nel frattempo, Faruk è a casa e riceve la visita del suo amico Tolga. Tolga gli racconta che Selin, la fidanzata di Faruk, lo sta cercando e ha addirittura dichiarato il suo interesse per lui. Tuttavia, Faruk dimostra un totale disinteresse per Selin, poiché non ha alcun desiderio di sposarla. Il suo cuore appartiene completamente a Emine e l'amore che prova per lei è profondo e incondizionato. Selin potrà anche cercare di conquistarlo, ma Faruk è determinato a seguire il suo cuore e a stare con la donna che ama. Poco dopo, Emine fa il suo ingresso, ma la vera ragione della conversazione viene nascosta da Tolga. Egli trova una scusa per la sua visita, menzionando un invito alla laurea di un amico comune, e rivela che Zeynep è coinvolta. Emine, ignara della reale motivazione di Tolga, apprende che la laurea di Zeynep si terrà nello stesso giorno. Questa notizia riporta alla mente di Emine i sogni e i progetti condivisi con la sua migliore amica, portando a galla sentimenti di nostalgia e di rimpianto per il passato che sembrava così promettente. Finalmente, arriva il momento tanto atteso della laurea di Zeynep, e tutti si riuniscono in facoltà per la cerimonia solenne. Zeynep è stata designata per tenere il discorso d'apertura, grazie al suo eccezionale rendimento che l'ha resa la migliore studentessa del suo corso di laurea. L'emozione è palpabile nell'aria, e tutti i familiari e gli amici sono presenti, ansiosi di celebrare questo importante traguardo nella vita di Zeynep. Tuttavia, c'è una nota di preoccupazione poiché Nermin, la madre di Zeynep, tarda ad arrivare. La sua assenza crea un certo grado di ansia e incertezza, ma nonostante ciò, la cerimonia prosegue con il sostegno caloroso di tutti coloro che sono lì. Emine e Farouk scelgono una posizione discreta da cui osservare Zeynep da lontano, desiderosi di condividere questo momento importante senza disturbare o farsi notare. Mentre Zeynep inizia il suo discorso, ringrazia i professori universitari per il loro contributo e poi, con una sincera ammissione, riconosce che l'emozione del momento le impedisce di seguire il discorso che aveva preparato. Con coraggio e vulnerabilità, Zeynep inizia a condividere la sua storia personale con il pubblico. Mette in luce le sfide e le difficoltà che ha affrontato crescendo con due madri e due padri molto diversi tra loro, sottolineando come queste esperienze abbiano contribuito a plasmare la persona che è diventata. Il suo discorso si trasforma così in un momento di autenticità e riflessione, suscitando l'attenzione e l'interesse di coloro che ascoltano, tra cui Emine e Farouk, che non possono fare a meno di essere toccati dalle parole di Zeynep. Nel corso del suo discorso, riflette sul percorso che l'ha portata a questo momento cruciale della sua vita. Ha sempre cercato di capire quale tra le sue due madri fosse il migliore esempio da seguire, ma oggi comprende che entrambe hanno contribuito in modo significativo al suo successo. E questo la riempie di orgoglio. Mentre Zeynep condivide queste parole, Nermine e Sakine si tengono per mano, scambiandosi uno sguardo carico di reciproca gratitudine, riconoscendo il ruolo fondamentale che hanno avuto nella crescita e nella formazione di Zeynep. Il discorso di Zeynep prosegue, toccando il tema del vero amore che ha recentemente scoperto grazie a Mehdi. Lei parla dell'importanza di seguire il proprio cuore e di abbracciare le sfide che la vita ci presenta, dimostrando come l'amore possa essere una forza motivante e trasformativa. In questo momento speciale, le sue parole risuonano nel cuore di tutti coloro che ascoltano, inclusi Emine e Farouk, che riflettono sul significato dell'amore e della determinazione nella propria vita. Il discorso di Zeynep tocca profondamente il cuore della sua famiglia, e mentre pronuncia il nome del suo defunto fratello Ramzi, sorride con commozione quando immagina che lui sia lì con loro. Con una voce piena di emozione, Zeynep dedica la sua laurea a Ramzi, che è tragicamente scomparso a causa della mancanza di cure mediche adeguate. Il suo viso si illumina di gratitudine mentre ricorda il legame speciale che aveva con suo fratello. Zeynep rivela che la sua decisione di intraprendere la carriera di avvocato è stata ispirata da una promessa che aveva fatto a Ramzi, quella di cercare giustizia per lui. Questo voto simbolizza la sua determinazione a lottare per i diritti delle persone e a giudicare suo padre, che aveva negato a lei l'educazione e a Ramzi le cure mediche necessarie. In questo momento toccante e significativo, Zeynep celebra il coraggio di suo fratello e si impegna a onorare la sua memoria attraverso la sua futura carriera legale. Alla conclusione del suo emozionante discorso, Zeynep abbraccia Mehdi, segnando un momento di profonda intimità tra loro. Tutti gli presenti nella cerimonia sono toccati e commossi dalle parole toccanti di Zeynep, che sono state un elogio sincero dei suoi traguardi e dei valori che abbraccia. Nel frattempo, Emine osserva con orgoglio e ammirazione la sua migliore amica, nonostante si senta leggermente esclusa dalla gioia generale. Il suo cuore è pieno di felicità per Zeynep, ma allo stesso tempo si trova in una situazione complicata a causa dei segreti e delle tensioni che circondano la sua vita. La sua espressione riflette il conflitto interiore che sta vivendo, ma al tempo stesso non può fare a meno di essere felice per il successo di Zeynep. E il finale di stagione si chiude, finalmente, con un momento di gioia ed emozioni condivise. Se non volete perdere nulla della seconda stagione, iscrivetevi subito al canale. Grazie, a presto!